bene procediamo ora con la respirazione tantrica che serve per potenziare la persona da un punto di vista della consapevolezza erotica e della forza nella sessualità ti chiedo di metterti in una posizione comoda con la schiena eretta e mentre ascolti il suono della mia voce chiudi dolcemente gli occhi e adesso inizia tranquillamente a respirare seguendo il tuo ritmo e via via che respiri porta la tua attenzione alla radice del tuo naso respira dalla radice del tuo naso e lascia che ad ogni respiro un raggio di luce e di energia penetri dentro di te aiutandoti a vedere chiaramente tutte le tue potenzialità tutte le sue risorse e adesso scendi verso il basso e porta la tua attenzione al centro del tuo petto nel tuo cuore e inizi a respirare con il cuore immagina che un raggio di luce di energia penetri dentro il tuo cuore ad ogni respiro aiutandoti a vedere chiaro dentro di te e fuori di te quelli che sono i tuoi sentimenti quella che la tua vita sentimenti e mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce a respirare porta la tua attenzione porta la tua attenzione nel centro del tuo corpo nell'ombelico ed ogni respiro immagina un raggio di luce di energia che penetra dentro il tuo ombelico e ti dà potere ti dà forza ti dà energia e mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce porta la tua attenzione sui tuoi genitali e inizia a respirare dai tuoi genitali concentra tutta l'attenzione sui tuoi genitali e respira tranquillamente immaginando l'aria entrare ed uscire dai tuoi genitali ad ogni respiro e mentre tutto questo succede e respira tranquillamente lascia che dentro la tua mente inizia ad aumentare l'eccitazione inizia ad aumentare l'energia sessuale ad ogni respiro ad ogni respiro e puoi diventare sempre più consapevole di tutto ciò che accade attorno a te e dentro di te e lasciare che la tua sessualità possa esplodere possa gonfiarsi, possa crescere e tu ti possa aprire completamente ad una nuova forma di consapevolezza mentre continui a respirare tranquillamente dai tuoi genitali respiri tranquillamente dai tuoi genitali e via via che tutto questo succede la tua sessualità migliora respiro dopo respiro la tua capacità e la tua potenza sessuale migliorano e anche l'armonia e la capacità di attrarre persone che possano vibrare alla tua stessa lunghezza d'onda adesso ti chiedo di fare altri sette respiri profondi trattenere l'aria alcuni istanti e poi espirare fuori fino in fondo con la bocca e adesso che hai finito questi respiri ti chiedo di portare l'attenzione su tutto il tuo corpo sulla pelle del tuo corpo sentire nuovamente l'eccitazione sentire la tua potenza sessuale e quando è finito e hai percepito la tua potenza sessuale fai ancora un respiro profondo e apri gli occhi bene, questa respirazione tantrica ha proprio l'obiettivo di incrementare la potenza e la consapevolezza del sesso tantrico e praticata dà la possibilità veramente di entrare maggiormente in sintonia con la propria sessualità bene, ti do appuntamento al prossimo video ti invito a seguirmi anche sul blog a http www.soluzionavio.com ciao 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 ciao